Sì, questo è quello che succede quando ti rendi conto che nella stessa giornata in cui fai un video la cosa ti viene smentita, esatto, ma questi sono dettagli Ok, allora Allora E appena è stato rilasciato il trailer della quarta stagione di Myra Accademia Sì, io stamattina ho fatto il video, registrato stamattina con le notizie che c'erano Abbiamo detto che il trailer sarebbe uscito a luglio e invece E invece è uscito oggi Il tempo di pubblicare il video, l'ho pubblicato ed è uscito Cioè, come farmi perdere tempo, questa è la verità Ma, nonostante ciò, sono molto in hype perché sto per vedere con voi il trailer della quarta stagione di Myra Accademia Per iniziare a cliccare sulla campanellina per non perdere il video di questo video e lasciare un like Detto ciò, vediamo un po' cosa cavolo è uscito Ok, dura un minuto, sono pronto Sono pronto La musica è bellissima Nuova ma è bellissima Ragazzi ma c'è qualcosa di strano nella grafica Ragazzi, allora magari un occhio non critico non se ne accorge Ma la grafica, ragazzi la grafica, porca puttana la grafica È cambiata, cioè non è che è cambiato lo stile Ma è migliorata tantissimo e già era buona Ripeto, oddio, io mi riferisco alle animazioni Sono pazzesche quelle poche che ho visto Poi ho visto una CGI Mamma che faccia Che espressione La musica è strepitosa, modificata da quella originale Ragazzi che cazzo di animazioni, porca puttana Puttana, bello, veramente bello Ci sta decisamente Allora, impressioni a caldo Questo trailer è stato veramente bello Corto, ok? È anche probabile che davvero il 7 luglio Come avevamo previsto nel video di oggi Uscirà ancora un altro trailer Ma in ogni caso, devo dire niente male La musica è cambiata Ovviamente il tema è sempre quello delle musiche di Mero Accademia L'autore è lo stesso Però ci sono delle nuove colonne sonore È chiarissimo da quella presente nel trailer La grafica, ragazzi Magari, ripeto, alcuni di voi non se ne saranno accorti Ma ci sono delle animazioni veramente ottime E non me le aspettavo Non me le aspettavo, tra l'altro Manca ancora un bel po' per la sua uscita Nel senso che dobbiamo aspettare fino ad ottobre E già nel primo trailer sono di altissimo livello Quindi probabilmente questa quarta stagione Sarà la migliore di tutte quante Quelle finora uscite Almeno dal punto di vista tecnico In realtà la gente che ha letto il manga Ci anticipa che sarà forse la migliore A prescindere anche dal punto di vista della storia Trattandosi di impressioni a caldo Per adesso non mi vai ad aggiungere altro Però in ogni caso Adesso delle aspettative È un hype veramente elevato Che fino ad oggi Non stavo avendo per questa nuova stagione Detto ciò ragazzi Farei sapere un po' voi Cosa ne pensate di questo trailer Della quarta stagione di Mero Accademia Lascia il like se vi è piaciuto Iscrivetevi su Instagram E noi ci vediamo in un prossimo video E andiamo ad editare di nuovo il video Come ho fatto oggi